ma tu non mi metti il capello giusto non mi piace no via no che vergogna non ricordate mettete un like e si vedete il nostro canale ciao a tutti oggi faremo un video del unboxing il lol surprise girls are vibes è un po' difficile è un po' difficile wow ma questa è una grande è un po' questo questo è un po' difficile wow quanta roba questo ma come stanno questo si attacca ci sono diverse perrucche che si cambiano ma è molto interessante io non ho mai visto queste lol eccole abbiamo messo la testina un pochino è strana questa lol fa anche ridere si ma è tipo un pochino è tutto pelato si ha i miei capelli i miei capelli wow cosa c'è dentro la scarpa queste sono le scarpe queste sono le scarpe questo è un cerchetto con un fiocco bella questo è il suo biberon questo è il suo biberon guarda un suppettino brillante bellissimo il cocco non mi vuole mettere i capelli o no? mi vuole mettere i capelli ok qual è il mio? io mi tiro questo 2 dollari prima o questo? poi ti poi ti poi ti forse 2 dollari prima o o o o o questo l'on non è così Karina o o po strano sembrano l'alieno o a me non mi mette io forse non mi mette così devo mettere è un po' troppo ridile ecco io devo messo i capelli guarda sopra non far vedere a nessuno dai è bella ma perché state ridendo se è meglio sono bella ma tu sei tutta pelata sei fisa tu dai Laria vai avanti cosa c'è dentro tira fuori tira fuori quanti capelli ancora tira fuori quanti capelli tira fuori adesso sono una tirata ho un'antra di pelo è stata tutta pelata poverina dai mettili che fa freddo ecco così hai visto così sta fermo buongiorno ma mi sa che hai messo con questa dietro non davanti se metti il fiocco chissà ecco così è giusto con il fiocco davanti mi sa dovresti imparare a mettermi il fiocco per bene sì ma così ti posso pezzinare così 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 è giusto non come mi hai messo tu con il fiocco dietro se metti davanti ma vogliamo un ucchio così nooo voglio davanti poverina le è caduto il cervello ma è il cervello quello quello è pelato guardiamo che parrucca ce ne sono guarda questa parrucca guarda questa questa è come una pecorina volevo volevo ma come ma come vuoi pelata ma che strana ma tu non mi metti il capello giusto non mi piace nooo via no che vergogna non mi guardate è rimasto un filo di perno un attimo un attimo ho venuto benissimo dei aiuti uno qua no ma cosa fai no non si fa così non fa così forse forse oh no ok si comicio sono bella adesso metà a metà voi non avete ancora visto questa acconciatura così bella a mi piace non è brutto è bello denisa dovresti imparare hai visto come si mette Noi non abbiamo trovato nessuna di queste Abbiamo una LOL molto molto strana Come aliena Ma io sono aliena Ma perché il mio sangue? Oh, vado via No, voglio più giocare con me Se il video vi è piaciuto Metteteci un like E iscrivetevi al canale Di Denisa e Ilaria Ciao, ciao, ciao Io sono bella, vero? Sì, molto bella, ma un po' Strana Lo so Lo so che sono un po' strana, ma mi piace Ciao, ciao, ciao